Un saluto da Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia dove qua ogni anno ricostruisco la bocca e i denti fissi su impianti a più di 4.000 pazienti che arrivano da tutta Europa. In questa pagina inizia il percorso che ti spiegherà in tre pagine quelli che sono i prezzi delle chirurgie al mio policlinico, delle protesi e poi ti farà vedere nell'ultima pagina e ti consiglio vai fino all'ultima pagina, ti mostrerò dei casi reali risolti. Qua noi siamo specializzati in ricostruttive complete della bocca, pazienti che hanno perduto completamente i denti per piorrea, quella che un tempo si chiamava piorrea, oggi meglio definirla parodontite, incidenti stradali o pazienti che sono stati traumatizzati e hanno speso tanti soldi in cure sbagliate dai dentisti precedenti, quindi pazienti che necessitano di chirurgie maxillofaciali. Noi siamo un'equipe maxillofaciali che collabora con l'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, sempre nostro qua qui in Moldavia, dove collaboriamo con protocolli di telemedicina alla ricostruttiva digitale prima e poi in fisico dei denti dei pazienti che dovranno essere messi sopra gli impianti posizionati dall'equipe maxillofaciali e siamo uno di quei pochi poli all'estero che dispone anche dell'anestesia generale, proprio perché ogni giorno ci ritroviamo a reintervenire con chirurgie terziarie su pazienti che sono in ultimo stadio e casi molto complessi che durano chirurgie 4-5 ore, ti assicuro che lavorare su un paziente che dorme è assolutamente prioritario per noi per la riuscita ottimale poi di queste chirurgie complesse. Da noi in passato i prezzi si calcolavano al dettaglio, per farti un esempio spicciolo tu hai una pizza per esempio vai al ristorante e ordini una pizza, un'oliva, doppia mozzarella, doppio sugo e veniva fuori il prezzo. Quello che abbiamo fatto da marzo di quest'anno è stato andare a fare una statistica di quelli che erano i costi per una riabilitazione e l'abbiamo suddivisi in tre categorie, visi medio-piccoli e medi, quindi visi large, grandi, oppure chirurgie maxillofaciali ricostruttive avanzate. Questi tipi di categorie, di box, pacchetti diciamo, hanno preso il nome di bundle o pack terapie chirurgie. Quando riceviamo un paziente qual policlinico viene eseguita la visita e lì capiamo in che tipo di categorie ricade questo paziente. Il prezzo è unico per categoria, il prezzo quindi non va più a cambiare perché non viene calcolato al dettaglio. Noi abbiamo già fatto delle statistiche e sappiamo che più o meno per realizzare quel tipo di ricostruttiva è quello che si va a spendere mediamente. In questa pagina troverai quindi quelli che sono i prezzi dei pack terapia e troverai anche i prezzi della chirurgia maxillofaciali. Le chirurgie maxillofaciali ci sono di diverse categorie, qua trovi quella base il prezzo per esempio per la mascella superiore con due zigomatici e quattro impianti nella parte anteriore. Se il tuo dovesse essere un caso ancora diverso sappi che ci sono poi i prezzi lì al dettaglio per gli impianti ptericoidei che vengono posizionati più dietro alla mascella superiore, impianti nasali oppure i quadri zigoma che sono quei casi ancora più complessi dove si mettono quattro impianti zigomatici. Comunque sia sappi che noi abbiamo delle categorie di prezzo che sono chiare, quello che cambia è il tipo di chirurgia da paziente a paziente. Per capire quello che è il tuo pack chirurgico il primo passo è inviarci una radiografia panoramica e noi andremo più o meno a distanza a dirti quello che è la tua categoria di intervento. Successivamente avrai la possibilità di scegliere le varie linee dentali. Sappi che non tutti possono mettere tutte le linee dentali ma abbiamo quattro tipologie di linee dentali che si adattano a diverse tipologie di pazienti. Le linee dentali le scegliamo solamente dopo le chirurgie perché solo dopo che sappiamo quanti impianti sono stati integrati nella bocca del paziente, abbiamo visto in 3d il paziente, conosciamo le aspettative di vita del paziente, quello che il paziente ha come desiderio, solo lì incrociando più di otto parametri riusciamo a capire qual è la linea dentale più adatta a quel caso. Non c'è l'arcata dentale migliore come non c'è l'automobile migliore, la Ferrari non è la macchina migliore. Quello che dico sempre la Ferrari è una macchina complessa ma se tu vivi in campagna ti assicuro la Ferrari non è la migliore macchina forse ti occorre una dacia, una macchina più semplice, più ammortizzata. L'arcata migliore la scegliamo noi qua in clinica dopo che inizieremo il percorso. Vai allora avanti, scrolla su questa pagina, vai più giù, puoi dare uno sguardo a quelli che sono i prezzi ma non so fermarti sui prezzi. Guarda i servizi che ci sono dentro, i centri assistenza che abbiamo in Italia, la possibilità di fare gli interventi in anestesia generale, il gruppo consumatori, quanti dentisti conosci tu che hanno messo in un'unica stanza più di 5.000 pazienti soddisfatti e si mettono quindi in discussione e soprattutto la possibilità di avere a disposizione un'equipe che ha già risolto più di 8.000 casi di questo tipo. Io ti faccio un saluto, inserisci nel caso i tuoi dati qua sotto per essere contattato, a quel punto verrà creata una scheda sul nostro gestionale col tuo nome, cognome, numero di telefono, un nostro operatore ti telefonerà e inizierai a descrivere a lui quella che è stata la tua storia. Dopodiché il percorso naturale è quello di vedere una radiografia, a quel punto vedere, ipotizzare un periodo in cui potresti viaggiare, procedere a quel punto al blocco e la prenotazione presso il nostro policlinico. Ricordati che abbiamo cliniche non solo a Chisinau ma anche a Bucharest e a Iasi in Romania. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.